Siete tutti pronti per un po' di mordi momenti? Pensa a una cosa lieta e volerai anche tu! Panetti in tetta! E sulle tue chiappette! Questo Natale, guarda qualcosa di veramente divertente in tv! Rendi le tue feste più spassose con Cine Cartoon! I migliori film per il miglior periodo dell'anno! Dal 24 dicembre alle 14.05 su Cartoon Network!